Questa sera ho parlato un po' della storia della mia vita, influenzata per la literatura. Ho fatto leggere il poema Ittaca di Cavafis, e poi i relati di Sandocan di Emilio Salgari, i piccoli uomini, i ragazzi di Iode, Luisa M. Alcott, d'Ernesto Sabato, un scrittore argentino, Il tunnel, Sobre eroi e tombe, di Cortázar, Julio Cortázar, un altro scrittore argentino, Il gioco del mondo e i racconti brevi, da Rudi Alkiplin, Il libro della giungla, che è un libro anche per adulti, Delgar Alampò, L'Historia straordinaria, di Sherlock Holmes, L'Historia di Sherlock Holmes, di Doyle, di Jorge Luis Borges, un altro grandissimo scrittore argentino, soprattutto Funes, Il memorioso e l'immortale, sono due racconti particolari, di Hemingway, per chi suonano le campane, il vecchio del mare, di Malraux, la speranza e la condizione umana, di literatura latinoamericana, di García Márquez, cento anni di solitudine, l'amore nei tempi del colere, il generale nel suo laberinto, di Vargas Llosa, la ciudad e los perros, conversazione e la cattedrale, la guerra della fine del mondo, la zia Giulia, l'escrivacchino e la festa del caporone, di John Le Carré, la spia che viene d'Alfredo e la talpa, di Raymond Chandler, il lungo addio, il grande sono, di Truman Capote a sangue e freddo, l'Emilio Nanotti, Mafalda de Chino, di Osvaldo Soriano, triste e solitari final, pensare con i piedi o football, che sono i racconti sportivi di Soriano, mai più pene né obbligo, quartiere d'inverno, racconto degli anni felici, la resa del leone e un'opera ben presto sarai, di Sandor Marai, l'incontro, la donna giusta, e ho fatto leggere alla fine, sempre di Cavafis, la poesia Aspettando i barbari. Ma io leggo gli autori di lingua spagnola in spagnolo, il resto ormai lo leggo in italiano. Grazie.